Ciao a tutti, bentornati sul canale youtube di Erboristeria La Nifea. Oggi voglio darvi dei consigli su come utilizzare al meglio gli accessori del make-up, ossia i pennelli, perché molte volte li troviamo nel nostro beauty case oppure li compriamo e non sappiamo il loro utilizzo. In realtà un pennello può fare diversi utilizzi e essere utilizzato in diversi parti del viso. Cominciamo con il fondotinta. Il fondotinta può essere applicato con un pennello a setole piatte. Questo arriva in tutti gli angoli del viso, soprattutto anche nell'attaccatura dei capelli. Mi consiglio sempre di farlo con le mani perché scaldando il prodotto lo tirate anche meglio. Comunque se volete utilizzare il pennello questo è quello più indicato, con le setole piatte sia per BB cream che anche per fondotinta. Per applicare le terre, bronzer, blush, per fare contorni nel viso, meglio un pennello un po' più piccolo e con le setole oblique, che allora va a definire meglio i contorni del viso. Se invece vogliamo applicare un illuminante oppure anche il bronzer, la terra, possiamo farlo con pennello piatto. Io utilizzo quello del Puro Bio che è il numero 12. Questo va a definire i punti dove si applica l'illuminante, dunque sopra gli zigomi e anche nella parte centrale del viso proprio per dare luce. L'illuminante va applicato dove vogliamo portare fuori i nostri punti di forza che possono essere gli zigomi oppure la parte centrale del viso. Se abbiamo anche un naso un po' largo ce lo assottiglia. Mentre il bronzer va applicato dove vogliamo portare dentro, dunque dove vogliamo andare a correggere difetti che possono essere le mascelle oppure un naso un po' largo, oppure anche una fronte molto pronunciata. Per quanto riguarda invece la cipria va applicata su una zona un po' più ampia del viso, dunque utilizziamo un pennello più grande con le setole lunghe e molto ampio. Questo numero 1 della Puro Bio va applicata sempre in alcune parti del viso, non tutto il viso, e sulla zona D, dove è quella di fissare il trucco e opacizzarlo, non deve dare colore. Poi se invece dobbiamo applicare un correttore, dunque fare una zona un po' più piccola del viso, ma anche applicare l'ombretto nella palpebra mobile, la palpebra mobile è quella che noi muoviamo. Dunque possiamo utilizzare questo pennello piatto a setole un po' ampie e piatte soprattutto. L'ombretto va applicato andandolo a tamponare, che così dura anche di più. Se invece vogliamo sfumarlo nella palpebra fissa, che è questa sopra, allora utilizzare un pennello sempre sul piccolo, un po' più rotondo e con le setole oblique, e facciamo questi movimenti. Se invece vogliamo andare a definire delle parti più piccole del viso, andarle proprio a creare un effetto un po' più pulito, possiamo applicarli, possiamo applicare ad esempio nella rima sottostante, nella rima sotto, l'ombretto, con il pennello piccolino, oppure viene utilizzato anche per applicare il rossetto, lucida labbra, rossetto, lip gloss sulle labbra. Può essere utilizzato anche per andare a disegnare le sopracciglia.